Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipilip in direzione Firenze per lavori un chilometro di coda tra Pisa Nord-Est e Cascina. Rallentamenti per lavori sul viadotto del Turbone tra Ginestra e Montelupo Fiorentino. Sulla variante di Valico in direzione Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra il Bivio Perla 1 e Badia. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per materiali dispersi tra Prato Ovest e Prato Est. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina in via Boccaccio a Firenze, strada chiusa per lavori fino al 2 febbraio. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio. Grazie a tutti.